più che dalla partita vorrei dire che ho vissuto 5 mesi di grande intensità, di grande lavoro nelle difficoltà, però anche nel fatto di essersi conquistati, un'importante permanenza in Serie A e di questo dovrete ringraziare la società, il Presidente che hanno dato questa opportunità voglio ringraziare il mio staff, tutto, è stato costantemente un aiuto in tutto quello che abbiamo fatto voglio ringraziare voi, la stampa, perché è stato un cungolo onesto di ringraziare tutti i tifosi e infine voglio ringraziare con l'amuna abbracciare i suoi concetti, veri artefici di questo campionato, per il sesto anno Cremona tornerà in Serie A ma fa con i suoi ster, con il suo camminamento, ma fa con la certezza che nella Serie A è un campionato molto difficile, come bisogna sempre sapere come affrontare i diversi momenti negli ultimi 5 mesi abbiamo vissuto tante, 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 tante situazioni, però abbiamo superato una volta e questo credo che sia un parloabile su cui costruire il futuro. Prego Oggi è vissuto una situazione un po' particolare, no? Sportivamente il fatto di spiacere, il tuo lavoro di sport, onesto, intero a questa situazione. Sai che penso una cosa, non può esserci una sola persona che fa una cosa e non ci può essere una sola partita che cambia il corso della vita. Claire, io ho la responsabilità di fare l'amore per Cremona e questo lo sono orgoglioso, onorato e fino all'ultimo secondo, all'ultimo sudore, all'ultimo dolce di sudore lo farò e l'ho fatto per Cremona, come nei 29 anni precedenti. mi piace ricordare che non mi stanno mai regalando niente nella mia vita e sono conquistato tutto, a questo punto sto parlando di riferimento personale, naturalmente, senza aspettare che qualcuno me lo regalasse e soprattutto senza delegare ad altri delle responsabilità per le cose che non ottenevo, anche perché non credo di avere responsabilità, credo di avere l'imperimenti in questa vittoria di Cremona. La cosa che tramonteva nel modo San Giorgio mai avessero voluto sentire, se c'è un progetto della Siena, credi che il basket, come la realtà lunga conosci, possa ancora sopravvivere? Prima delle, dico delle, perché lo vestivano profondamente, lo vestivano come Marchigiano, lo vestivano come Fermano, come abitanti di una zona che ha sempre fatto basket. Questo basket negli ultimi anni in Monterrano ha sempre fatto ad altissimo livello e ne ho sempre riconosciuto e ne riconosco i merdi, perché ho avuto e ho grande stima per tutto l'ambiente di Monte Granara, perché una città, credo cittadina di 13.000 abitanti, che per 8-9 anni di seguito sta a massimi livelli, vuol dire impegno, vuol dire organizzazione, vuol dire lavoro, vuol dire tante cose. Questa è la cosa che mi è sempre piaciuta di Monte Granara, quindi auspico che il Fermano ritrovi subito l'energia e lo spende per ritornare a pensare a tasca e ad altissimo livello. Sono convinto che la stessa passione che ho sentito stasera di Monte Granara sia la stessa con la quale da domani mattina ne pensieranno a costruire il futuro di quella società e di quella città. Grazie. Grazie. Grazie.